Due edifici su tre scolastici non sono a norma, lì ci stanno i nostri figli tutti i giorni. Possibile che questa non sia una priorità per questo governo? Sì, deve esserlo, lo sarà sicuramente per noi. Per loro non lo è, ma perché alla fine sulla scuola hanno rotto il loro rapporto col Paese. È stato il primo settore, la prima parte di Paese con la quale si è rotto un idillio che era stato immenso alle elezioni del 2008. Cosa dice il Partito Democratico? Perché oggi abbiamo chiamato qui tutto il mondo della scuola, le associazioni, gli insegnanti, gli studenti, i dirigenti scolastici, ma soprattutto i nostri amministratori locali? Perché crediamo che sia ora in questo Paese, che è comunque la settima potenza mondiale, di alzare la voce per accendere i riflettori su un'emergenza nazionale, che è appunto quella dell'edilizia scolastica, delle condizioni di sicurezza. Oggi è stata presentata una commissione di inchiesta che faccia luce sulle scarse risorse che vanno all'edilizia scolastica. In particolare di cosa tratta? Noi ci siamo posti il problema di capire dove finiscono le risorse che sono destinate all'edilizia scolastica. Lo abbiamo fatto perché in questi tre anni abbiamo sollecitato costantemente il governo a dare spiegazioni su quali progetti sono stati fidanziati, con quali esiti, con quali capacità di spesa. Ne abbiamo ricevuto sempre delle risposte fumose e lacunose. Per rimettere a posto le scuole ci vogliono soldi, tanti. Dove si prendono questi soldi in un momento di crisi del Paese? Ci vogliono soldi, ci vuole soprattutto la capacità di sbloccare quelli che oggi ci sono. Oggi ci sono sia a livello nazionale che a livello locale. A livello nazionale sono stati bloccati dal CIP attraverso meccanismi che vanno sbloccati. A livello locale sono bloccati da un patto di stabilità che non è quello giusto perché va reso flessibile a seconda dei temi. Perché un Paese che ha saputo ritrovare la voce per votare il referendum non riesce a indignarsi abbastanza sulla scuola? Perché ci sono state campagne a reti unificate che hanno rotto quel patto di fiducia invece che esisteva nel nostro Paese che era forte? Il ministro Brunetta insulta i precari, quegli stessi precari che mandano avanti tutti i giorni la scuola. Lei cosa gli risponde? Io penso che non potrebbe aver fatto la cosa peggiore che poteva fare. E quell'Italia è l'Italia che oggi, a fatica e umiliata, fa andare avanti ciò che di più importante abbiamo, la scuola e l'istruzione. L'idea che chi sta sopra e dovrebbe semmai scusarsi per la situazione che normalmente quelle persone vivono e incoraggiare a trovare soluzioni, li umilia, li insulta, penso che sia il senso più profondo di un potere che si è completamente staccato dal Paese e ha perso la testa.